Salve a tutti, siamo collegati per la terza ed ultima conversazione sul filosofo Sant'Agostino che si è occupato di tante cose, soprattutto dopo la sua conversione dal manicheismo e che soprattutto si è occupato dell'uomo, della grande sete di infinito e di bellezza che ha l'uomo dentro di sé. Nel rivelarci chi è l'uomo Agostino ci rivela se stesso, quindi come anche prima dicevo la filosofia, il pensiero agostiniano è strettamente esistenziale, cioè legato alla sua esistenza, ma sarà così anche per Pascal, sarà così anche per tutti gli esistenzialisti. L'uomo è per Agostino una creatura di Dio e attenti bene, Dio ha creato buono l'uomo, tutto è buono, tutta la creazione è buona, come dice il libro della Genesi, Dio vide e Dio creò e vide che era cosa buona, quindi anche l'uomo è buono perché Dio lo ha creato, però attenzione perché l'uomo può fare un cattivo uso della libertà e impantanarsi da se stesso nel male. Quanto è libero l'uomo dinanzi a Dio, cioè esiste il libero arbitrio o è Dio che lo comanda, lo teleguida? Noi sappiamo che questo tema è un tema molto caldo della riflessione anche dei filosofi non credenti o comunque panteisti, materialisti e via dicendo, era un tema questo del rapporto tra Dio e la propria libertà che ha appassionato intere generazioni anche di gente comune, più o meno come oggi ci si appassiona per lo sport. Essenzialmente però soltanto chi prendeva in considerazione Dio, un Dio però diverso, alieno, cioè creatore della creatura, affrontava e ha affrontato correttamente il problema. Prima lo ha affrontato San Paolo che ha scritto 14 lettere, convinto che l'uomo senza la grazia non potesse essere giustificato, cioè reso giusto, però una grazia che animava e potenziava la libera responsabilità dell'uomo. Più avanti, su questo punto del libero arbitrio, ci fu il grande scontro frontale tra Erasmo, l'ottimista umanista, che scrisse il de libero arbitrio e Lutero, il pessimista predestinazionista, che scrisse il de serbo arbitrio. In mezzo a Paolo e a Lutero e ad Erasmo c'è Agostino appunto, ed è falso dire, come purtroppo dicono alcuni libri, che Agostino non credesse nella libertà dell'uomo, egli stesso su di sé aveva sperimentato questo divenire della libertà dell'uomo quando liberamente dal manicheismo era passato al cristianesimo. Ma era però per Agostino una libertà aiutata, tutelata, una necessità dovuta appunto all'essenza dell'uomo che tende a fare il male. E che cosa è la grazia? Questa parola così mal spiegata, in cui si vede così l'ignoranza e la trascuratezza anche di tanti testi di filosofia. Grazie viene dalla parola greca caris, che significa dono, e che anima anche, anzi è all'origine della parola latina gratis, cioè una cosa acquistata senza pagare, quindi si suppone una cosa donata. Nel linguaggio di San Paolo, che Agostino riprende, la grazia è un dono che spinge la responsabilità dell'essere umano, però al tempo stesso dà anche dignità a questa libertà umana. Quindi grazia e libertà sono due realtà che si penetrano e che non sono mai antitetiche, sia chiaro. In Agostino non troviamo mai nessuna espressione verso una grazia intesa come se l'uomo fosse teleguidato e mosso come un pupo siciliano da Dio. In un filosofo che è anche un mistico, come Agostino, a volte può esserci in qualche espressione un po' di ambiguità, di spostamento troppo verso la grazia, ma i termini della questione sono molto chiari. Stupenda in Agostino è la considerazione del tempo. Il tempo è una delle categorie a priori di Cante, del criticismo. Agostino riguardo al tempo sostiene che se tutto è creato dal nulla, anche il tempo non esisteva prima di Dio, quindi anche il tempo è stato creato. Dunque il tempo non è eterno ed è ozioso chiedersi cosa facesse Dio prima del tempo. È come non so se io, che non ho più mio papà, tra l'altro mi chiedessi cosa pensasse mio papà prima di sposarsi o di partorire me insieme a mamma. E Agostino in questo senso fa una metafora, poiché dice Agostino noi non riusciamo a percepire l'eternità, a pensarla, perché la nostra mente è limitata, quindi non riusciamo a percepire l'illimitato, così abbiamo dato al tempo tre dimensioni antropologiche, secondo il nostro linguaggio, il prima, cioè il passato, l'adesso, il presente e il poi, che è il futuro. Ma in realtà queste sono due dimensioni della nostra memoria, dice Agostino, il ricordare che si riferisce al passato e l'attendere che si riferisce al futuro, ma non sono dimensioni sostanziali. Rispetto a me che vivo il passato non c'è più e il futuro non c'è ancora. Quindi io sono in un eterno presente, che è l'unica cosa sostanziale e questo, diciamo, ricordare il passato e attendere il futuro è una dimensione dell'anima. Dunque il tempo è una bellissima espressione di Agostino, è distensio animi, cioè esiste il presente che si distende fino a ricordare ed attendere e questa è una grande responsabilità per l'uomo. Ancora dobbiamo ricordare la polemica pelagiana di Agostino, forse ve la chiederanno la verifica. Pelagio era un monaco inglese che sosteneva che l'uomo era talmente buono, talmente superdotato, monaco inglese quindi credente, talmente superdotato che la grazia ammessa da Pelagio agisce soltanto una volta nell'atto creativo, ma poi non agiva più, che in realtà la salvezza operata dal Cristo fosse quasi inutile, inesistente, perché l'uomo una volta creato andava avanti da solo. Cristo infatti, diceva Pelagio, più che un redentore è stato un educatore. Qui vediamo in questa definizione di Pelagio ritornare tante opinioni liberal sul cristianesimo, cioè il cristianesimo anche oggi è accettato solo come una forma di educazione psicologica dell'individuo, non come una grazia che lo salva. E Agostino fece una grande polemica contro Pelagio. Poi ci fu la polemica donatista, più legata però ad un fatto storico. Cosa avvenne? Avvenne che nel 250-251 ci fu a Roma, nell'impero romano, delle persecuzioni più dolorose, sanguinose dei cristiani da parte di Decio. Dopo la pace di Costantino del 313, alcuni che magari per salvare la propria famiglia, anche un po' se stessi, avevano fatto apostasia formale, ma dentro erano rimasti i cristiani, chiesero di rientrare nella chiesa, perché che in realtà nel cuore non avevano mai tradito, appellandosi al fatto che la chiesa è madre chiesa. Vennero chiamati i lapsi, che letteralmente dal latino italiano erano degli scivolati. Donato di Casenere, che era un vescovo africano, di Numidia, sosteneva che preti e vescovi potevano rientrare, ma i loro sacramenti non erano validi. Quindi pensate, dovevano essere ribattezzati, ricresimati, risposati, tutti quelli che erano stati battezzati, cresimati e sposati da vescovi ritenuti lapsi. Agostino si oppose a Donato e disse che il sacramento agisce ex opere operato, non ex opere operantis, cioè non si possono allurare i sacramenti per la cattiva vita o le cattive scelte di colui che li ha amministrati, il quale poi se la vedrà con la sua coscienza davanti a Dio, perché i sacramenti, se c'è la grazia per amministrarli, rimangono nella loro grazia e non si può far tornare indietro sull'orologio del tempo la grazia. L'ultima cosa la diciamo sulla grande opera di Agostino, il Deci Vitate Dei, la città di Dio, un po' simile come progetto alla grande repubblica di Platone. Agostino rivede tutta la storia politica della umanità, l'uomo, secondo come ha vissuto, Agostino dice con linguaggio paolino, o secondo la carne o secondo lo spirito, ha condizionato non solo se stesso ma anche il vivere della sua società. Agostino si concentra praticamente su Roma, che è nata da un fratricidio, quello di Romolo e il Remo e la dissoluzione di Roma è causata, Agostino era molto vicino, dal suo paganesimo. Soprattutto Agostino contribuì in quest'opera a definire la concezione lineare della storia a dispetto di quella ciclica, cioè la storia va avanti, ha un inizio e una fine guidata da Dio e non è vera la concezione ciclica tipica della metempsicosi greca, cioè la storia si ripete o della reincarnazione induista buddista di oggi. Tante cose ci sarebbero a dire su Agostino, ma credo sia meglio fermarsi qui. Grazie, alla prossima!